In attesa dell'inizio del campionato di Serie D, il motore in casa gravina è già caldo per l'esordio ufficiale in Coppa Italia. I Murgiani, domenica 25 settembre con fischio di inizio alle ore 16, affronteranno il Manfredonia nel turno preliminare. L'incrocio tra le due squadre però non andrà in scena nella cornice del vicino, che verrà riconsegnato nei prossimi mesi per il rifacimento del manto in erba sintetica e per altri interventi nelle due tribune. Sarà dunque il Franco Salerno di Matera ad ospitare la gara contro il Manfredonia. Subito un buon test in ogni caso per il Gravina, che dopo la salvezza diretta strappata a braccetto proprio con la compagine sipontina spera in una stagione meno altalenante. La Coppa può essere sicuramente un buon viatico per prepararsi al meglio all'inizio di un campionato che si preannuncia ulteriormente competitivo. C'è intanto una buona dose di curiosità intorno al Gravina, con il responsabile dell'area tecnica Gabriel Maule, che ha rinforzato la squadra con diversi profili provenienti da campionati esteri. I murgiani tuttavia negli ultimi giorni hanno rimpolpato ulteriormente l'organico con un poker di acquisti. Oltre a Raffaele Guadagno, portiere classe 2006 proveniente dalla primavera della Turris, e Gianmarco Alba, centrocampista in forza al Bitonto nella scorsa stagione, Mister Tiozzo potrà contare anche sull'ex trequartista del Padova Primavera, Sega Keita e Ismael Aiges, difensore centrale Scuola Genoa.